È importante essere qui perché si parla di temi del futuro, si parla di futuro sostenibile, si parla di green, si parla soprattutto di risparmio ambientale. Noi del calcio e noi della Lega di Serie B siamo estremamente sensibili e cerchiamo di portare avanti una politica che consenta di divulgare tutte queste tematiche a tutti i nostri tifosi, a tutte le persone, a tutti gli appassionati del nostro mondo.